Allora, sto andando a vloggare alla presentazione di Satellite Paris e il marchio è bellissimo, lo avete visto nel vlog quello della presentazione autunno-inverno del press day di NoWords per cui adesso non vedo l'ora di vedere che cosa hanno organizzato per questa presentazione come al solito la gente mi guarda un po' là, ci vediamo là uscita dalla metro io oggi non mi trovo l'età, non ho dato che non sopporto e usciamo e andiamo, allora questa collezione è una collezione di gioielli andiamo andando è dalla parte di là mi fermo qua perché non c'è il verde sì, ho già visto dov'è, lo faccio vedere è lì dove c'è tutta quella gente fuori che aspetta spero di non star tanto perché sono stricissima sono certa che sarà veramente super interessante perché già vedere la presentazione è stata veramente bella intanto passiamo davanti alla mia zona preferita ma ci sono state le cose super super belle no, prima si riprende perché sennò poi prima il dovere e poi il piacere no, perché sennò poi il trucco va via sì, è veramente bella sì, è veramente bella Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.